Rigioni è uno dei volti nuovi del Teramo, un pilastro per la difesa, aperto un'annata particolarmente importante perché hai già avuto le tue esperienze in B, ma questo è un anno che ti deve sostanzialmente consacrare. Sì, sicuramente vengo qua con tanto entusiasmo e voglia di far bene, ho fatto qualche esperienza in B ma purtroppo per varie circostanze non l'ho potuta vivere al pieno visto che ero fuori rosa, vengo qua con tanta voglia e entusiasmo. Tu hai un trascorso importante a livello di settore giovanile, Chievo a Inter, poi sei riduce da due stagioni a Catanzaro molto proficue. Sì, sicuramente ho fatto un percorso importante, però diciamo che mi manca far bene in B e vengo qua con tanto entusiasmo e con la speranza di far molto bene. Quali sono le tue caratteristiche? Ma questo spero di farlo vedere, non mi piace tanto parlare delle mie caratteristiche, spero, ripeto, di far bene e sicuramente di dare tanta soddisfazione ai tifosi del Teramo. Del gruppo che è stato finora assemblato ma che comunque andrà completato, quali giocatori conosci già? Sinceramente nessuno, però ho già visto tutti i bravi ragazzi, conoscevo Nicola Fiore che mi ha parlato benissimo, però di questo gruppo pochissimo insomma. Insomma, grande carica, vi facciamo l'in bocca a l'uo per questa stagione. Crepi, grazie.